Un modo di leggere un'intervista proprio del mister ieri, il quale col direttore sportivo sta veramente tirando la carretta. È stata la vittoria del cuore, ieri mancavano otto giocatori, cinque dei quali messi fuori rosa e tre fuori per infortunio e per squalifica. E il mister diceva proprio che si è messo la fascia in testa e la scimitarra come Sandokan. La tigre è tua, Sandokan. Sandokan, Sandokan. Sandokan, Sandokan.